A quasi sei mesi dall'insediamento il Forum dei Giovani è ancora sprovvisto di una sede. Perché questo ritardo? Visto che tra l'amministrazione comunale e il Forum dei Giovani c'è un accordo giuridico attraverso il quale ci permettono di rientrare nella sede a Palazzo Baronale, viviamo attraverso una convenzione che noi abbiamo richiesto di modificare e che ancora oggi, dopo tanti solleciti, lettere inviate, protocollate, senza mai una risposta, noi non abbiamo ancora la nostra sede. L'amministrazione quindi non ha mai risposto alle vostre richieste? L'amministrazione non ha mai risposto ai nostri solleciti fatti, sia attraverso lettere, sia attraverso chiamate, incontri. Dopo l'incontro che c'è stato con la quarta commissione il 5 marzo, dove abbiamo appunto revisionato quella che è la convenzione, da lì non c'è stato più un risultato della situazione, diciamo. Cosa comporta per il Forum dei Giovani non avere una sede? Comporta che il Forum, ma in generale per tutti i ragazzi di Torre del Greco, non esiste un luogo pubblico dove poter vivere il sociale, dove poter condividere delle tematiche, delle iniziative, dove poter tornare a studiare in aula, visto che noi facciamo anche aula studio e a Torre del Greco, l'unica aula studio a Villa Magrina e a Torre Centro non esiste. Attualmente sede ad Interim il Palazzo Baronale, che però può essere occupato solo per determinate ore e determinati giorni. Quali sono questi orari? Gli orari in generale sono dalle ore 9 del mattino alle ore 13, dalle ore 15 alle ore 21. Abbiamo fatto richiesta nella modifica della convenzione di allungare questi orari, almeno aggiungere dalle ore 13 alle ore 15, visto che già in sé è limitante restare all'interno del municipio, all'interno del Palazzo Baronale, e di aggiungere anche il sabato, visto che comunque i ragazzi tra universitari, i ragazzi che comunque vanno a scuola, hanno bisogno anche del sabato per poter svolgere le attività all'interno della sede. E non abbiamo avuto ancora risposto nemmeno su questo. Mesi di richiesta e l'amministrazione senza una risposta. Come avete intenzione di procedere? Abbiamo lanciato sulla nostra pagina del forum una campagna di condivisione che speriamo diventi virale con l'hashtag free sede, in maniera tale da farci sentire anche attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiale e da far capire all'amministrazione che noi non parliamo a nome di 24 consiglieri, ma di 500 e più ragazzi che ci hanno votato a ottobre. A livello istituzionale, non di diffusione, c'è qualche possibilità di intervenire? Vorremmo avviare una petizione appunto per far capire che comunque l'esigenza è tanta e per avere dalla nostra anche un numero di persone certificato sulla carta che richiede l'apertura della sede. E inoltre, se la situazione non dovesse sbloccarsi, saremo pronti anche a organizzare un sit-in, anzi per la precisione un presidio fuori parazzo banonale in cui richiediamo appunto l'apertura della sede. Noi dobbiamo ricordarci che prima della chiusura, avvenuta ormai 15 mesi fa, per varie ragioni tra cui il Covid, l'aula studio contava almeno 40 ingressi giornalieri, per cui veramente l'esigenza di riaprirla è fondamentale. E tra l'altro è anche un dovere, è anche una mansione che ricade in chi ricopre le figure istituzionali che dovrebbe svolgere questo di lavoro. Quindi aspettiamo insomma che ognuno faccia il proprio lavoro. C'è stata già un'ampissima partecipazione sui nostri canali di Instagram e Facebook e adesso veramente noi abbiamo avuto, a parte molte, molte persone che ci hanno contattato per riaprire proprio l'aula studio che è un servizio fondamentale e sappiamo anche che la petizione avrà un grande successo e è anche il sit-in che proporremo qualora la situazione non dovesse sbroccarsi. Ovviamente tutto il sit-in lo svolgeremo nel massimo del rispetto delle norme sanitarie del Covid, però ci teniamo a far sentire la nostra presenza anche dal vivo se la situazione continuasse così.